Sono Matteo Capone e sono un fotografo, ho studiato all'OIED di Roma, mi sono laureato a fine settembre dell'anno scorso e adesso sto continuando i miei studi, soprattutto in ottica fotogiornalistica, tramite un'agenzia di Milano. Allora, il mio lavoro è un'indagine fotografica che si concentra sul territorio industriale italiano, dunque è un'indagine che va a sensibilizzare ma anche a denunciare una realtà che a tutti non è nota. Queste fotografie sono state realizzate due anni fa ormai in Abruzzo, a Bussi sul Tirino, che è uno dei SIN, ovvero dei siti di interesse nazionale di cui mi sono occupato da un paio d'anni a questa parte. e nelle immagini sono raffigurate una discarica e un fiume. La discarica sorge a pochi metri dai siti industriali che hanno causato quest'ultima e in questo momento è stata coperta, però in realtà sotto ci sono all'incirca sei metri di cumuli di rifiuti tossici. Mentre il fiume Tirino, che è il fiume che bagna il paese, che conta circa 2.500 persone, è un fiume che attualmente non è effettivamente contaminato, ma in passato, nel 2007, è uscito fuori che praticamente tutto l'Abruzzo ha bevuto acqua contaminata a causa del collegamento con i possi di questa città. Quindi questo è il lavoro che ho realizzato e nei prossimi anni continuerò questo progetto attraverso altri siti che sono purtroppo sparsi in tutta Italia, sono all'incirca 40 in tutto il paese.